ehi ragazzi ciao a tutti e nick bentornati qua su ark survival evolved allora ragazzi sono un attimo ritornato nella zattera perché praticamente ho preso i fucili i fucili appunto perché ho preso i fucili perché ragazzi ho visto un bellissimo tirannosauro veramente veramente bello ora qualcuno tiranniche ma tu hai già un tirannosauro ed è questo qua allora il mio tirannosauro attuale ragazzi è un tirannosauro maschio ora io ho visto un tirannosauro femmina albino oltretutto albino quindi bianco ed è femmina quindi se catturiamo questo tirannosauro posso far accoppiare poi i due tirannosauri e automaticamente ragazzi vediamo un bellissimo baby tirannosauro non ho mai visto il baby tirannosauro e quindi è una cosa bella da vedere no allora l'ho visto qua sto bel tirannosauro è una zona teoricamente eccolo la zona buona questa però non so se posso caspita messa che non possa equipaggiare l'arma moglie tiriamo magari da una certa zona dire che è bello l'ho preso cacchio cacchio ho paura bello bellezio ed il livello 145 ragazze o questo qui non si scherza ma non mai caga meglio cavolo 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 a mi scusi non volevo farlo arrabbiare cavolo 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 ore 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 molto intelligente lui lui urla e mi dà il tempo di scappare ormai me conosce ma ha fatto 3 4 urli dovrebbe attaccarmi senza urlare ormai mi ha avvertito tante di quelle volte che potrebbe anche smettere di urlare no ma meglio per me se urla mi dà il tempo di salire in groppa al mio fidato tizio qua lento non corre su tirannosauro tirannosauro mi sembra un po strano mi sembra proprio strano su tirannosauro potrebbe poter correre no se corre mi pia di sicuro nick si lamenta troppo di vero raga cioè mi va bene mi va di fortuna o diciamo di culo e mi lamento se correva già ero morto speriamo che non lo fa no ma perché ce l'hai con me giustamente no che domanda che faccio vai 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 mi sa che stavolta corre mi sa che stavolta corre no è sempre lento e stufato di urlare raga ha capito che dice questo dice appena urlo scappa quindi non urlo più dai vai giù non mi rompere vai salto 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 e che te urli non fai paura nessuno ho mancato come cavolo ho fatto ma è strano su tirannosauro mi sbaglio raga non è un animale strano non si comporta in modo strano ho mancato sembra smarrito oh finalmente finalmente andiamo dai dai che ci devo mettere subito la carne pregiata che teoricamente ce l'ho teoricamente eccola qua allora inserire cibo eccolo qua dunque tu tieni questi che non mi servono più perfetto bello raga e nick e mo c'ha il tirannosauro albino guardate là ma ovviamente non lo posso far accoppiare ora raga anche se ho detto che voglio far accoppiare i due tirannosauri ma non lo posso far accoppiare ora perché perché più i genitori sono di livello alto più è di livello alto il piccolo quindi mi conviene prima andare un po in giro con questo tirannosauro lo facciamo salì di livello ma praticamente facciamo così adesso ci portiamo dietro l'altro tirannosauro questo tirannosauro e mi porto dietro pure lo you tiranno che dai boost di dai boost di danno no così che famo fa un po di esperienza e poi raga magari nel prossimo gameplay facciamo il baby tirannosauro oh yeah boh nell'attesa che questo si sveglia e vado a fa una bella raccolta qua risorse perché no il metallo serve sempre speriamo che non ci stanno animali cattivi ma sono stato qua un po non ho visto niente ok ho preso un po di ferro ma mo c'ho sete e Nick va a fare una cosa molto intelligente va a bere l'acqua di mare che come ben sappiamo è salata ma dissetante no? oh così ci siamo allora ho preso 2000 di metallo almeno oh cavolo mano male che non sono sceso guarda stava il dannato ragnetto dannato schifoso mannaggia eeeh la da mezza scatole a quanto cavolo oh c'era il dannato scorpione la sopra ce ne è anche due beh se non mi rompono le scatole vorrei un attimino raccogliere altro metallo oh si è svegliata raga buono oh no mo la chiamiamo ce la portiamo a casa andiamo forza andiamo portiamola a casa va così o sennò la lascia a metà strada mi conviene che tanto gli dobbiamo far fare un po' di livelli la portiamo nel solito posto quello più buono la lasciamo in attesa e andiamo a prendere l'altro tirannosauro più lo iutiranno e così raga ma è lenta veramente oh ma che hai ha mangiato troppo non ho capito io oh cavolo ok aspetta 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 ferma ferma ci stanno tre allosauri oh penso che penso che sa difendersi da sola beh io raga vado a prendere l'altro tirannosauro più lo iutiranno poi torniamo qua e ci occupiamo di un paio di animali raga dobbiamo far salire di livello sto tirannosauro così poi se tutto va bene si così nel prossimo gameplay magari facciamo il baby tirannosauro però di livello un po' più alto è inutile fare un tirannosauro di livello così così ok raga mi sto facendo seguire perché perché diamine dov'è ah eccolo la sgraziato bravo hai fatto bene a mangiartelo allora mi sto facendo seguire raga perché loro finiscono la stamina ce l'ha con me quello ecco un mosto più tranquillo guarda non ero sicuro pensavo che ce l'aveva con me nel dubbio ho detto molo dirò giù ok ok allora i tre allosauri stanno ancora la dov'è la mia ragazza qua e cara carissima andiamo allora facciamo così io voglio guidare lei sì sì devo guidare lei dammi questo e lo metto qua ci vuole un po' di carne avete carne vai un po' di carne per lei che deve mangiare si deve mettere in forza che cacchio è guarda sto avvoltoio del cavolo cavolo vogliono gli avvoltoio raga ma ero ma che cacchio vogliono sti avvoltoio da meno io ho fatto niente a parte aver ammazzato un loro lontano parente pensavo pensavo che si stava unendo qualcun altro dunque livello 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 boom 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 ok allora mi seguite seguendo seguendo allo 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 sauri attaccate allo stiamo sauri stiamo sauri stanno a dormire mi hanno visto a mezzo fotoso no spaccamo tutto spaccamo guardatelo iu tiranno guardatelo iu tiranno no avete visto lo iu tiranno è per questo che non voglio guidare io lo iu tiranno non guidandolo io ci da lui i boost a noi e meh siente che dobbiamo fare che intenzioni hai avanti mi sta rappiccicato però mi sta rappiccicato andiamo che siamo ma siamo terribili facciamo paura qua facciamo veramente paura allora andiamo un po' da che parte andiamo raga devo far fuori devo far fuori un po' di animali qua vedo che ce n'è qualcuno avanti cominciamo a sbranare che dobbiamo salire di livello vaie bravo iu tiranno bravo da sopra vedo belli animali vai 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 e così vai e così un altro livello vai che pompiamo sto dinosauro ok ma che è sembra appiccicati me stanno così così bravo bravo a questo a questo a questo a questo bravo 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 a lei a lei a lei a lei forse capiamo forse capiamo a posto due livelli via pompo tantissimo il danno raga bello andasse in giro con i tirannosauri vero poi questo iu tiranno e la ciliegina sulla torta uno dei miei animali preferiti lo iu tiranno con il suo bellissimo boost di danno e difesa andiamo a fa fuori mi ma so tre di che livello sono ma fanno schifo ok si so buoni cioè fanno schifo che so di livello basso quindi so buoni li famo fuori nemmo mordicchiamo un po urla urla aiuteranno urla che è mononurli vai e bravo 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 questo è di livello più alto livello 85 bella 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 bellissimo wow che roba raga certo ovviamente non capisco che caspita mordo però però togliere tutte quelle scritte alle volte è troppo bello che si vede più si vede più naturale no più realistico senza le scritte buono abbiamo fatto una strike allora 6 livelli raga 416 un po' di salute bella vai che se troviamo se certo che ok se trovo un alfa raptor lo famo fuori se trovo un se trovo un tirannosauro alfa non credo anzi a dir la verità non li ho a dir la verità non ho mai visto i tirannosauri alfa so che ci stanno ma non li ho visti 514 di danno raga sicuramente grazie al boost dello you tiranno eh oh raga lo you tiranno lo you tiranno in squadra aumenta veramente di tanto di tantissimo l'attacco eh portassi dietro uno you tiranno è sempre un'ottima scelta lì sotto vedo brontosauri vai che gli fanno fare tanti livelli bravo così 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 perfetto oh un altro livello bene andiamo per di qua brontosauro in vista allora gli devo far recuperare un po' di salute intanto vediamo la situazione ok intanto gli applico questo vai 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 morti 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 guardate 340 di danno quando urla diventa 500 se urla eh dipende tutto da lui è arrivata la maledetta notte non si vede più niente si era un brontosauro al livello 150 allora gamma 4 così vediamo qualcosina di più vediamo un po' un altro oh la sotto vedo un tirannosauro mo l'andamo a fa fuori allora diciamo 10.000 di vita bene vamo fuori a sto tizio qua dai quella il bello è che vedo pure gli animali allo in lontananza avete visto quella specie di mosca no non si vedeva ma con l'urlo se vede oh ma non mi fa camminare qua sono rimasto un po' bloccato ok vai ma la faccio un po' a piedi va mi segue? lei mi segue? ma penso di si ok ma fate fuori a questo bravi bravi oh mi piace anche giocare così raga e io vado in giro e gli dico oh fate fuori a questo andiamo andiamo che ho visto un t-rexs ho visto un tirannosaurus rexs chiamine microraptor wow non pensavo che me beccavo davanti il microraptor raga ma ho fatto bene in colpo manomale che ci stanno loro le mie guardie del corpo ragazze no se no era un po' brutta eh livello 55 femmina tirannosauro sempre lei eh? no ce n'è un altro due tirannosauri in vista raga ma io non ho paura oh mio dio ho paura scappo via 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 Prende coraggio, eppure che se c'è un tirannosauro rimane qui a piedi, ma sì. Basta che non muoio io, spero di no. Ah, dov'è la ragazza del tirannosauro? Dov'è l'altro tirannosauro? Certo che non era un animale piccolino, eh. Ah, eccolo là. Andiamo, 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 signori, andiamo. Mo, mo, col fatto che sti tirannosauro urlano, ho tutto il tempo di scappare. Invece di attaccare subito. Uè, tixax, saurus, rex. Gli sparo nelle chiappe, gli sparo. Non gliene frega niente, al tirannosauro rex. Va bene, allora, mi attaccate quel tirannosauro? Grazie. Grazie, grazie, grazie. Eeeh, tutto fumo e niente arrosto. Brutto cattivo! Keratina. Oh, che cacchio è, ah? Lo state andando? Dov'è che andate? Mi lascia... Ah, cado! Mi vado a fare male così. Dov'è che ci troviamo? Uè, para! Ammazzate il para! E mo' che para? Banane? Ammazzate a questo? Vai, vai, eeeh! E se buttano di sotto. E mi lasciate qua a me? Chiedo scusa? Penso se mo' arriva da dietro un veloci raptro. Vabbè, quello l'ammazzo. E che... E io mo' come scendo? Ma c'è vuole imbaracadute qua. Arrivo! Uh, Brontolino! Aspetta un po' che a Brontolino non gli facciamo fare una brutta fine. Vai, è andato a far fuori a Brontolino, dai! Ma come quanto mi piace giocare così, raga? Che fa questo? Uh! Che stavo a farli? Che che stavo a farli? Andiamo, dai! Non stare lì a... A contare le pecorelle, per dire. Vai, non so che dire, va. Bene, raga, dai. Comunque, sicuramente stanno a far un mucchio di livelli, eh. Abbiamo un altro Brontolino. Perché lo lasciamo qua. Vai, Brontoliamolo! Vai, vai! Urca! Ma che caspita di coda! Oh, devo stare attendo. Questo me becca pure a me, mannaggia. Ah, mi scusi. Mo' sei diventato asociale? Che è diventato asociale, quello, raga? Non lo so io. Allora, come abbiamo fatto? Io mi guardo alle spalle, raga, non vorrei che arriva qualcuno. Bene, ti provo con livello 60. E' a posto, raga. Praticamente abbiamo fatto il giro della zona. E devo dire che era ben fornita la zona. Sicuramente io ho fatto fare un bel po' di livelli a tutti. Dai, io ho fatto fare un bel po' di livelli. Allora vai, 4 e 20 a te. Tu sei arrivato a 2,44. Buono. E tu? E tu niente, vabbè. E' già di livello alto il marito, quindi sale più lentamente. Va bene, ragazzi. Io penso che mo' me li porto a casa, perché qua abbiamo fatto piazza pulita. Abbiamo fatto piazza pulita, quindi mo' me li porto a casa, li faccio riposare. Perfetto, ragazzi. Quindi spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Nel prossimo gameplay penso che faccio accoppiare i terannosauri. Penso che mo' con i livelli, tutto sommato, può anche andar bene. Che ce l'ha con me questo? Oh, ma che cacchio vuole, guarda, va. Ma chi ha detto cosa? Ma io non li capisco, sta avvolto. Vabbè. Ok, ragazzi. Quindi. Ok, vi saluto. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Ragazzi, perché ho presto. Ciao, alla prossima. Ciao. 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 Ciao.